Come affrontare i pericoli di un terremoto, come fronteggiare gli effetti di un alluvione o di qualunque altra calamità naturale. Gli ultimi accadimenti ci insegnano che purtroppo questi eventi non sono solo possibili, ma sono sempre più frequenti. E allora serve formazione, informazione, spiegare a partire dai bambini cosa è necessario fare in queste circostanze, come cioè giustire le emergenze. Andrea il prossimo 3 dicembre sarà interessata da un'esercitazione di protezione civile post-sisma con l'utilizzo dei droni da ricerca e da soccorso. Saranno simulate le attività di verifica dei tre campanili a seguito di un sisma che avrebbe colpito la città. Un'attività che sarà preceduta il 29 novembre da una giornata di formazione nell'Istituto Imbriani-Salvemini. L'abbiamo accolta di buon grado su proposta di un'associazione di protezione civile che a livello nazionale fa simulazioni nei territori in vista di probabili eventi importanti come può essere un terremoto. Sabato notte avverrà un simulato di un terremoto che interesserà la città di Andrea per cui la domenica in piazza si potrà assistere a delle operazioni di verifica della stabilità delle torri cittadine e dei campanili cittadini dove con dei droni che voleranno andremo a fare delle riprese con le quali poi il personale addetto potrà fare delle verifiche di stabilità e di situazione post-terremoto di questi campanili senza doversi avvicinare quindi in piena sicurezza. Al di là di quello che succede è importante fare prevenzione cioè che i cittadini si rendano conto che le calamità possono succedere e che questo in genere dentro i cittadini un senso di appartenenza e quindi anche formare dei gruppi locali che possano essere di supporto nelle varie situazioni, ahimè se dovessero succedere.